Realizzare e arredare la nuova casa, ora questo lavoro si può fare da soli con un software che ci aiuta a progettare la ristrutturazione anche con il 3D, si chiama Cast Home Ice ed è stato realizzato da Stefano Nicotra e Manuele Giaccone. Permette di creare un progetto strutturale da zero o se esistente coadiuvati dalla planimetria dell'ambiente. Il software riproduce con accuratezza in 3D l'intera struttura del progetto disegnato in cui l'utente potrà muoversi liberamente e customizzare tutto l'ambiente in tempo reale a suo piacimento dal colore e materiale di muri e pavimenti all'arredamento. Grazie per la visione!